Massimo Giletti è stato minacciato di morte tramite una lettera. È lo stesso presentatore a renderlo noto durante l'ultima diretta del suo programma Non è l'arena. Parole durissime quelle scritte in questa lettera ma è chiaro il messaggio di Giletti. Io non ho paura. Il presentatore si è sempre messo in prima linea per combattere la mafia con ogni mezzo a sua disposizione. Nell'ultima puntata Giletti ha parlato ancora di Matteo Messina Denaro e ha mandato in onda un servizio di Ismaele Lavardera consigliere regionale in Sicilia. Lo stesso che ha chiesto chiarezza sulla presa di posizione della preside di una scuola dove lavorerebbe come professoressa una donna che ha avuto rapporti con Messina Denaro. Una posizione definita da molti ambigua. Parliamo della maestra che è stata immortalata in un supermercato insieme a Messina Denaro e che ora è indagata dalla procura di Palermo. La donna sarebbe la figlia del defunto boss Leonardo Buonafede ma sul posto di lavoro come ha specificato la dirigente scolastica non ha mai avuto un comportamento sospetto e niente è mai trapelato. Ma quando la scuola è venuta a sapere dei contatti della maestra con Messina Denaro sono rimasti tutti a bocca aperta. Ma torniamo a Massimo Giletti. Lui in diretta dice di avere ricevuto una lettera con delle minacce vere. Giletti guarda fisso in camera e afferma lo dico a chi mi sta guardando, lo dico a chi me l'ha mandata, io non ho paura. Anche se in questa lettera vengono fatti dei nomi perciò è gente che sa quello che faccio non è una lettera così ma io vado avanti come fanno anche i miei. Insomma anche questa volta Giletti ha dato prova di grande coraggio un elemento che ha sempre contraddistinto la sua vita professionale.